ciao a tutti e bentornati in testi la news quest'oggi parliamo di un particolare attrezzo utilizzato davvero sia da principianti che da esperti per le amanti della maglia infatti parliamo dei ferri circolari non dei ferri qualsiasi dei ferri circolari in metallo materiale davvero molto leggero nonostante si possa pensare al contrario davvero semplice da utilizzare confortevole e disponibile sul catalogo tessiland in diverse varianti in modo tale da poter accontentare tutti i gusti e anche tutte le creazioni analizziamo nel dettaglio i ferri circolari in metallo tessiland iniziamo da questi che sono i ferri circolari corti con cavo fisso knit pro nova hanno una lunghezza totale di 25 centimetri a prescindere dalla misura del ferro che va da 2 fino a 5 comprese anche le mezze misure la lunghezza come dicevamo totale è comunque sempre da 25 centimetri il cavetto è fisso in modo tale che questi possano essere ferri già pronti per l'utilizzo per creazioni in tondo più piccoline quali ad esempio calzini oppure cappellini parliamo di ferri in ottone con una superficie davvero molto liscia il numero presente su ogni ferro è stampato al laser quindi non si scolorirà nel tempo e oltretutto non darà alcun fastidio durante la lavorazione i cavetti invece eccoli qui sono perfettamente collegati fissi in modo tale che non possiate correre il rischio di torsioni adesso invece parliamo delle punte knit pro nova che vanno dal numero 3 fino addirittura al numero 12 queste che stiamo vedendo adesso sono numero 7 parliamo di ferri circolari realizzati in metallo leggero davvero di ottima qualità l'aggiunzione eccola qui è davvero molto liscia sarà facilissimo inserire il cavetto un ferro davvero molto leggero in modo tale che possiate lavorare per ore e ore la vostra creazione senza affaticamento delle mani e anche in questo caso il numero del ferro viene stampato al laser e le punte dei ferri sono in argento lucido per una migliore visione anche dell'inserimento del lavoro queste invece coloratissime ogni ferro infatti avrà un colore diverso in modo tale che possiate identificarle al meglio sono le punte corte knit pro zing le troverete anche questi di diverse misure 3,3,5,4,5,5,5,5,5 e 6 ferri circolari in metallo leggero davvero di altissima qualità la giunzione per applicare il cavetto è davvero molto liscia e facile da applicare il numero del ferro è stampato anche qui al laser e se la vostra preoccupazione è questa vale a dire la divisione tra la parte colorata e la punta credetemi non è così perché in realtà non vi è alcuna giunzione ma semplicemente uno stacco di colore quindi anche in questo caso il punto scivolerà perfettamente sul ferro e poi di conseguenza sul cavetto parliamo adesso di pratiche confezioni da portare con sé anche in viaggio in questo caso abbiamo il set di ferri circolari knit pro per l'appunto mini è un set come potete vedere in denim una custodia lavabile quindi resistente e dall'aspetto anche molto naturale con due scompartimenti separati che adesso vedremo una volta aperta quindi questa pratica confezione potrete trovare all'interno questi due scompartimenti chiusi da una pratica zip al cui interno troverete un piccolo manuale per sapere come collegare perfettamente i ferri al cavetto una davvero molto utile confezione con all'interno sette ferri in betulla laminata eccoli qui nelle seguenti misure 3 3 e mezzo 4 4 e mezzo 5 5 e mezzo e addirittura 6 eccoli qui che potrete tranquillamente riporre in questa confezione in modo tale da non rischiare di perderli nella seconda invece tasca troverete il cavetto da 17 centimetri che insieme ai ferri quindi raggiunge una circonferenza totale di 27 centimetri e un cavo da 20 centimetri che con i ferri raggiunge i 30 centimetri 4 cappucci terminali eccoli qui e due chiavi per cavi questa invece la pratica confezione davvero molto resistente del set di ferri circolari nipro spectra trends davvero un set molto accattivante composto da tre diversi ferri circolari in resina con attacco in metallo li troverete in diverse misure questa è la 9 poi c'è anche 10 e addirittura 12 ben tre cavetti della lunghezza da 60 80 e 100 centimetri e sei tappi chiudi lavoro e tre chiavi per evitare il cavetto al ferro in maniera davvero molto semplice facile e soprattutto sicura abbiamo già parlato delle punte nipro nova in precedenza e tutti conosciamo perfettamente la loro qualità beh se volete acquistare un set e quindi avere tutti i numeri di queste punte potete farlo grazie al set di ferri circolari nipro nova metal il tutto verrà conservato in questa pratica e resistente confezione al cui interno troverete eccole qua le punte nipro nova metal che vanno dal 3 e mezzo fino al 4 4 e mezzo 5 5 e mezzo 6 7 e 8 girando invece la confezione nella parte posteriore troverete invece un piccolo manuale che vi indicherà come applicare correttamente i cavetti alle punte e per l'appunto dei cavetti 4 cavetti girevoli a 360 gradi da 60 80 centimetri di 80 ne troverete ben due da 100 centimetri anche 8 tappi terminali 4 chiavi a cavo e un set di connettori per cavi come promesso all'inizio del testi la news i ferri circolari in metallo disponibili sul catalogo tessiland sono davvero tanti in diverse varianti di colore con il cavetto fisso disponibili anche in set esperti e non delle lavorazioni a maglia mettetevi quindi al lavoro scegliete il ferro circolare in metallo più adatto a voi e buon lavoro noi ci vediamo al prossimo testi la news ma prima vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube ed attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli le nostre novità le nostre rubriche ma di seguirci anche su tutti i nostri social instagram facebook pinterest tik tok e ovviamente di leggere gli articoli presenti sul nostro blog per tante novità e per essere sempre al passo con i tempi e con le nuove tendenze noi ci vediamo al prossimo testi la news ciao 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 ciao